Interrogation di scienze Oggi interrogherò per primo Sanseverio Sì ma è trovato subito Ehm, quanto fa 2 più 2? Ma non è di scienze Ah sì è vero, gli animali quanti sono in tutto il mondo? Ehm, sono infiniti Giusto? Quanto fa 100.000 animali più 360.000 piante? Fa 4.750.000 anni fa c'erano i dinosauri ovviamente Ma è... Ehm, sì è giusto Adesso te mi devi dire quanto è sporco sto guanto da 1 a 10 Ma esta, quello è sporco 100.000.000 più di 10 Giusto Giampierino Ma perché stai cambiando nuove in coordinazione? Ma non è la Sanseverio all'inizio Adesso sei Giampierino Ma tu haiingly di primo Ah 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 ah